I vaccini stanno riducendo drasticamente il numero di decessi e di ricoveri, ma i numeri indicano chiaramente che le varianti stanno annullando l'effetto positivo dei vaccini. Abbiamo all'incirca gli stessi ricoveri in terapia intensiva dell'anno scorso, nonostante ad oggi si sia raggiunto quasi il 60% dei vaccinati con doppia dose. La variante Delta è più virulenta del virus che circolava l'anno scorso e sin quando il virus continuerà a circolare si genereranno nuove varianti. Quindi in attesa di avere vaccini più efficaci anche contro l'infezione e la trasmissione del virus, dobbiamo continuare a tracciare. Dobbiamo farlo adesso prima che i nuovi casi tornino a salire.